I nuovi percorsi quadriennali dell'istruzione tecnico-professionale rappresentano una importante opportunità per i nostri giovani. Innanzitutto perché immettono nel mondo del lavoro un anno prima, ovvero nel percorso universitario ATS. Poi perché avranno a disposizione molti più docenti dal momento che, a invarianza di organico, si riducono gli anni da 5 a 4. Ci sarà un potenziamento di quelle materie che oggi rappresentano un po' l'anello debole della filiera tecnico-professionale, cioè italiano, matematica, inglese. Ci sarà uno strettissimo collegamento col mondo dell'impresa e ci sarà tanta internazionalizzazione, cioè esperienze all'estero. Insomma, un modello vincente, un modello che consentirà ai giovani di realizzare le loro aspettative, i loro talenti, trovando più rapidamente un posto di lavoro.